Sì, è proprio il momento di parlare del Servizio Civile Nazionale, intanto capiamo che cos'è, come funziona oggi, chi può aderirvi e anche a cosa serve, cioè hai l'opportunità di formarsi e di fare qualcosa per gli altri per un anno di vita e lo facciamo in compagnia di Enrico Maria Borrelli, Presidente del Forum Nazionale Servizio Civile. Benvenuto! Allora, partiamo dall'inizio proprio, spieghiamo che cos'è il Servizio Civile Nazionale e cosa consiste? Il Servizio Civile Nazionale è un istituto della Repubblica, è una struttura complessa nella quale partecipano tante organizzazioni del terzo settore, molti, tantissimi enti pubblici, serve a tutelare i valori fondativi della nostra Repubblica, quindi la libertà, l'uguaglianza, i diritti inviolabili, predicare per i giovani anche, che devono impararlo nei termini dell'educazione civica, i doveri di solidarietà sociale, che sono importanti e a questi scopi lo Stato ha destinato risorse e strutture. Ecco, infatti, perché chiaramente è un impegno, è anche una formazione, ma è anche remunerato il Servizio Civile Nazionale? Il Servizio Civile è remunerato, i giovani percepiscono un rimborso, non è chiaramente uno stipendio, siamo fuori dall'alveo del lavoro, percepiscono 433 euro al mese per tutta la durata del Servizio Civile, che ancora oggi è ferma a 12 mesi. È compatibile, è possibile fare il Servizio Civile e contemporaneamente un lavoro oppure studiare eventualmente? Sì, il Servizio Civile è compatibile con lo studio, con il lavoro, ma lo Stato chiede una priorità, quindi i giovani in realtà possono fare le esperienze del Servizio Civile e continuare a lavorare a condizione che il lavoro non sia ostativo per lo svolgimento delle attività e dei progetti. Viene chiesto di dare la priorità sostanzialmente al Servizio Civile come ore di impegno, dal punto di vista di quello che è il modo in cui viene svolto, per esempio quali sono i settori in cui è possibile effettuare il Servizio Civile, i principali quantomeno? Certo, sono tantissimi, si spazia dall'assistenza all'ambiente, alla protezione civile, agricoltura in zone di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, sono aree di recente inserimento, rigenerazione urbana, piuttosto che educazione e promozione culturale e tanti progetti vengono anche realizzati nell'ambito della tutela del patrimonio del nostro paese, quindi storico, artistico, culturale e ambientale. È interessante anche l'aspetto appunto formativo e ci si può chiedere se il Servizio Civile non possa eventualmente poi diventare un lavoro a tutti gli effetti dopo la fine dell'anno di servizio. Può succedere? Succede. Abbiamo anche una grafica che forse ci aiuta qui sul mio touchscreen a leggere un po' questi dati. Intanto iniziamo a parlarne. È così? Può succedere? Assolutamente sì, il Servizio Civile è un'esperienza altamente formativa per i giovani, vengono inseriti in progetti che sono particolarmente strutturati, quindi hanno un chiaro piano di obiettivi, di attività e un corposo anche asset formativo. Quindi i ragazzi se scelgono adeguatamente il progetto che gli interessa, che è affine ai loro percorsi di studio, ai loro interessi, è chiaro che porteranno a casa competenze spendibili anche del mondo del lavoro. Questo accade, infatti i dati che si presentavano prima dicono questo. Sì, li facciamo vedere, tanto comunque sono direttamente collegati, sono tantissime domande presentate. Cosa dicono poi i dati? Beh, i dati dicono, da un'indagine realizzata da INAP, che è l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, che dopo 18 mesi il 52% dei giovani che ha svolto il Servizio Civile è occupato. Questo è un dato molto importante, un dato che viene confortato da una serie anche di verifiche, fatte stesso sui giovani stessi che si sono impegnati, i quali dichiarano che le competenze acquisite in Servizio Civile sono state molto utili per la loro formazione, il loro ingresso nel mondo del lavoro e le utilizzano per il lavoro che svolgono. Quindi sono chiaramente una formazione vera e propria, a quel punto lì è diventata, oltre che chiaramente il servizio alla comunità. Sono tantissime, le facciamo vedere un'altra volta, le domande presentate, i giovani selezionati e tra l'altro il totale dei progetti che sono stati inviati tra il 2001 e il 2017 sono più di 40.000, sono tantissimi i numeri. Sì, sono circa 45.000 progetti, tantissimi, hanno svolto a Servizio Civile circa mezzo milione di giovani in Italia, sono numeri significativi se pensiamo che questi ragazzi sono quotidianamente impegnati nei nostri territori. Quindi rispetto a situazioni di bisogno, se non anche emergenze, perché siamo intervenuti anche, interveniamo anche in situazioni di emergenza, beh, questo è un esercito civile, non violento, di giovani che nella quotidianità interviene per migliorare la qualità di vita nelle nostre comunità. È vero che è composto il pubblico, diciamo, che afferisce al Servizio Civile Nazionale, soprattutto da donne? Ancora oggi c'è molta prevalenza di donne rispetto all'uomo. Circa il 65% sono ancora donne. In realtà potrebbe una risposta non abbiamo chiara per questo fenomeno, però i dati ci dicono che la maggior parte dei giovani, quelli con la più alta scolarizzazione, proviene da studi umanistici, sociali, legati alla salute, alla comunicazione, all'informazione, che sono tutti percorsi di studio che ancora oggi vedono una maggiore presenza femminile. Quindi il giovane che sceglie il Servizio Civile per un interesse personale e professionale, ecco, attinge, se vogliamo, da una platea prevalentemente femminile. Non ultimo, fino a pochi anni fa, ancora dobbiamo dire, fino al 2005, il Servizio Civile volontario era aperto alle sole donne, già che gli uomini erano impegnati con quello obbligatorio di leva. Un'ultima domanda riguarda la possibilità, che è molto interessante, di farlo anche all'estero. È possibile eseguire il Servizio Civile nazionale però all'estero? Assolutamente sì, è una delle esperienze che stiamo cercando di sviluppare. Al momento abbiamo non più di mille giovani, sono un contingente annuale di circa 50.000 ragazzi, ragazze e ragazzi, che possono svolgere il Servizio Civile all'estero. Sempre 12 sono i mesi, quindi la durata dell'attività è la medesima, però i ragazzi vivono insieme all'esperienza del Servizio Civile italiano, che quindi abbiamo già descritto negli aspetti formativi e di solidarietà, vivono anche quello della mobilità internazionale, escono fuori di casa, quindi non si va più a Cuneo per tre anni come Totò per fare il militare, ma hanno i giovani la possibilità di scegliere un'esperienza all'estero, che sia in Europa o fuori dall'Europa. L'area geografica più popolata dai nostri progetti di Servizio Civile è il Sud America. Molto interessante questo aspetto. Grazie Enrico Maria Borrelli, Presidente del Forum Nazionale Servizio Civile, per averci raccontato quello che è anche la possibilità di contribuire proprio alla società, al di là dei discorsi chiaramente interessanti legati poi allo sviluppo di un lavoro, a una formazione futura.